Il presidente e senatore Luciano D'Alfonso con la sua incompatibilità continua a creare confusione e stallo, e quanto hanno affermato i consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri, Emilio Iampieri e Paolo Gatti, questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta all'emiciclo. Secondo i rappresentanti del partito di centrodestra, la regione Abruzzo deve tornare al più presto ad avere agibilità politica e legittimità amministrativa. Continuiamo ad affermare che il presidente della regione Abruzzo è in una causa di evidente incompatibilità che deve dimettersi, ovvero optare tra quale dei due ruoli vuole ricoprire se quello da senatore in cui è già proclamato dal 23 marzo o continuare a mantenere l'impegno con gli abruzzesi assunto 4 anni circa fa da presidente della regione. Continua a tergiversare perché deve mantenere la presa sul potere regionale, tra l'altro allargando il dissenso che c'è sull'operatore della regione Abruzzo, ma soprattutto tenendo bloccata la rinascita della regione Abruzzo che ormai per il centrosinistra non ha più una maggioranza politica e di conseguenza il Consiglio è già pienamente operativo e soprattutto non ha più la possibilità di fare le cose che agli abruzzesi servono. Oggi in aula gli faremo tra l'altro vedere come nelle altre regioni lo stesso PD contesta la medesima incompatibilità ad altri consiglieri regionali e nel frattempo eletti parlamentari e li fa decadere. Pertanto è una foglia di fico, noi siamo più che preoccupati per le scelte di D'Alfonso in funzione del fatto che vediamo l'Abruzzo continuare a perdere metri rispetto alle altre regioni d'Italia a perdere occasioni.